Che cosa fate di straordinario? Il regno di Dio è l'irruzione non dovuta, non prevista, non logica del totalmente altro nella parzialmente nostra vita e storia. Il regno sa rendere straordinario il tessuto della trama umana, capace di suscitare bellezza e luce anche dove sembra abitare solo la banalità del male. È l'ordinaria logica del dare per avere, del non fare niente per niente, del a me che ne viene, una logica violenta che a volte si traveste da generosa liberalità. A noi discepoli viene indicata la via straordinaria del non strettamente dovuto. Così, superando in amore, nonostante la nostra propensione egoistica, le logiche violente del male, vincendo il male con il bene. Il termine di paragone che Gesù indica non è tanto il comportamento di santi o di giusti, ma il modo di agire del Padre Celeste e la sua perfezione, perfezione che sta nel donare sole e pioggia senza tener conto della bontà o cattiveria degli uomini, ma solo perché sono tutti i suoi figli. Egli non premia, non gastiga e non calcola un ritorno del bene profuso.